Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Teperiu! Oggi siamo qui con il primo video della nostra nuova sezione, ovvero la sezione SHOPPING! Sì ragazzi, adesso apriamo un'altra sezione, questa sezione si chiama SHOPPING, perché? Perché, come forse già sapete, sono iniziati i saldi da poco e dureranno fino a marzo. E noi, naturalmente, siamo già andati a comprare delle cosine, vero Pippo? Sì, approfittando di questo periodo. E poi allora ci siamo detti, perché non creare una nuova sezione SHOPPING, dove facciamo vedere tutti i nostri acquisti di abbigliamento, di scarpe, o anche solo di cose pucciose, cose molto carine? E vabbè, oggi potremo pantaloni, maglie... Sì, siamo andati in due negozi. Allora, siamo andati da... ecco qua questo mega borsone, da Chiavi e poi da scarpe, scarpe! Ragazzi, scriveteci nei commenti se anche voi conoscete questi negozi e se siete già andati a fare degli acquisti con i saldi. Ok, quindi iniziamo subito, vero Pippo? Sì. Sì, allora iniziamo. Vi dovete iniziare dalla robetta di Pippo. Allora. Taran taran. Naturalmente vi diremo i pezzi. Sì, damalo, damalo! Sì, la maglietta dei... POKEMON! Bravissimo Pippo! Eccola qua, la maglietta... Questi qui sono gli acquisti di Chiavi, eh? Allora, eccola qui, la maglietta dei POKEMON. Guardate com'è bella, gialla, molto carina e poi dietro è semplicemente così. E adesso vi faccio vedere i personaggi che ci sono. C'è Chaizad, che è il dago. Sì. Chaizad il dago. Sì. Venusau. Sì. E poi qua vicino c'è Blastoise. Bravissimo, ma soprattutto lui l'ha presa perché c'era Chiavi, quindi appena l'ha vista ha detto voglio questa qui. Allora, costava 9 euro, però c'era uno sconto del 30% e quindi l'abbiamo piegata 6,30 euro. Quindi un bel affare, molto bella. No, ma l'ho costata la mia patte. Eh, per amore non c'è già più spazio, li mettiamo la qua, se no... OK. C'è di qua ci abbiamo un macello da mettere a posto. Sì. Poi, allora... Queste calze... Allora, sono San Pellegrino Kids, antiscivolo e del... sono del... Calcio. Del calcio. Questo è scritto Goal, sono due palline. E poi dietro la parte antiscivola, tutti questi palloni, bellissimi. E... Sono taglia 30, 35, 5 euro. OK. Io gioco tutti i giorni a calcio, infatti io poi faccio gol pazzesco. Sì. Poi, pantaloni! Pantaloni per la tuta, semplicemente anche solo per l'asilo, così sta comodo. Eccoli qua, questi qua blu, con appunto i laccetti blu arancioni. Allora, questi qua, come potete vedere, sono molto lunghi. Infatti sono a misura 8 anni, perché Pippo avesse già 6-7 anni, però 6 anni li vendava troppo corto e 8 troppo largo. Quindi questi qui li metterà il prossimo settembre, ecco. Sono molto molto carini. E questi qua costano solamente 5 euro. Perfetto. OK. Cioè, vi posso dire solo sta cosa. Questo qua è l'ultimo anno di Asile, e quindi poi il prossimo anno di elementari. Sì. In quarta elementare, noi giochiamo a calcio. Sì, bravo. Poi, altri pantaloni, stesso tipo dell'altro, però grigi, con i laccetti blu. E invece questi qui, appunto, sono 6 anni. Come potete vedere qua. E il prezzo è sempre 5 euro. Cioè, quando inizio il calcio a scuola, io mi metto a piangere. Sì, alcuni di voi ci hanno chiesto nel video dei regali di Natale. Quanto costa questo? Quanto costa l'altro? Noi, naturalmente, non vi possiamo rispondere, perché essendo dei regali, non sappiamo i prezzi. Quindi magari andate a curiosare su alcuni siti, provate a cercarli per sapere i prezzi. Mentre in questo video ve li possiamo dire, perché appunto ci sono... L'abbiamo comprato noi. Poi la maglietta di Star Wars. Bravissimo, maglietta di Star Wars. Guardate che bella. Questo qua è un personaggio, che questo qua, in alcuni video, ho visto che lo fanno anche telecomandata di questo personaggio. Questa qui appunto è misura 8 anni e poi costa 10 euro. Vale, vale. Dai, i prezzi adesso li dico io. Tanto so io in uno. Poi, ultima cosina che Pippo ha comprato da Chiavi. Il giubbotto dei Minions. Bravissimo, cioè guardate che bello, ragazzi. Lo faccio vedere io. Sì. Dei Minions. Qua ci sono i tre Minions. Aspetta. E poi c'è la cerniera gialla. E il prezzo è di 32 euro. Era di 32 euro, però scontato del 50%, quindi 16 euro. Ma è bellissimo, ragazzi. Se guardate, molto bello, con le taschine. E questa qua invece misura 6... 8 anni, anche questo qui. Tutto 8 anni! Pippo è molto grande. Ok, adesso passiamo alla mia roba che ho preso da Chiavi. Allora, qua abbiamo preso la rivistona ecco di Chiavi. Che presenta il negozio. Vale, vale, vale. Per farvi vedere. Fammi e dai. Lo faccio vedere tutto io. No, ma questo non lo facciamo vedere tutto. Solo così che l'abbiamo... Solo per farvi vedere che l'abbiamo preso. Ed è molto bello perché presenta il negozio. È un negozio veramente bellissimo. Perché ha per tutti... C'è uomo, donna, bambino... Vabbè, veramente c'è tutto. Allora, dammelo. Togli. Iniziamo con le mie cose. Va, togli. Ok. Allora, ho preso. Aspettate, eh. La maglia più bella del mondo. Allora, questa qua che l'adoro, ragazzi. È una maglia abbastanza lunghetta. Che ha davanti questo pizza fiori bellissimo. E poi dietro ha la cerniera. E questi vestitini qua, sia miei che di Pippo, ve li faremo vedere indossati alla fine del video. Quindi, guardate il video fino alla fine per vederci che indossiamo questi vestiti. Costava 12 euro, però c'era l'ascolto del 50%, quindi solamente 6 euro. Poi, mi andavo di prendere, cioè, delle cose rosa. Infatti, ho preso tutte le altre cose solo rosa, ragazzi. Però questo rosa confetto. Allora, questa qui è la felpa. Tutta rosa così, ve la faccio vedere più in qua. Che appunto, naturalmente, il cappuccio. Aspettate, mi fai scappare che mi sto venendo da gomitare, senti che hai preso tutte le cose rosa. Tutte le cose rosa. No, ma veramente è un rosa bello, secondo me, perché è confetto, non è pacchiano, non è... Ecco, poi ha le taschine anche. Poi, solo prende il giornalino di Chiami. Ok. E poi, dentro è anche felpata, molto calda. E la taglia è una S. Allora! E il prezzo è di 10 euro. Ok. Molto bella, mi è piaciuta veramente. Poi... Allora! Sì, è arrivato Pippo, poi Pippo, sediti. Mettiti in questo giornalino. Ok. Altro mio acquisto, eccola qua. Questa maglia, con le maniche a tre quarti, come potete vedere. Ed è bellissima, ragazzi, perché, guardate, ha anche una scritta inglese, tutta così. E sta molto attillata, e mi piace moltissimo. Ed è una taglia, anche questa qui, S. Il prezzo, c'è questo qui, costava 5 euro, però 50% di sconto, quindi 2,50 euro, ragazzi, questa maglia bellissima, che posso mettere sia adesso che in primavera. Va, 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 adesso i pezzi li dico io. Sì. Poi... Ma in questa maglia osa? Questa alta, bellissima. E costa? Costa 10 euro. 10 euro. Questa qui non era scontata. E appunto c'è scritta Los Angeles, bellissima. Ed è anche questa qui, veste un po' larghetto, però io ho visto appunto che veste un po' largo, ho preso l'XS, così mi sta un pochino più stretta, ecco. Non mi piacciono troppo le maglie larghe. E costa anche questo qui, 10 euro. Molto, molto carina. Ti piacciono i nostri acquisti da chiavi, Pippo? Sì. Sì, più i suoi. Ok. Poi, passiamo da Scarpe Scarpe. Allora, prima di tutto vi volevo dire che mi è arrivato un regalo di Natale in ritardo e ve lo volevo far vedere in questo video. Naturalmente abbiamo già pubblicato i nostri due video dei regali di Natale, sia quelli sui, che quelli miei. E vi sono piaciuti molto, quindi si fa molto piacere. Naturalmente se non li avete visti andate a vedere. Comunque vi lasceremo tutti e due i link dei link in info box. E il regalino è questo! Ragazzi, come sapete, avete già visto nel mio video dei regali di Natale. Io adoro gli emoji, sono bellissimi. E mi è arrivato appunto questo cuscino. Io lo amo, ragazzi, con questa faccina troppo tenera. Infatti ve lo volevo far vedere in questo video. Poi, ragazzi, siamo stati da Scarpe Scarpe. Eccola qua. Dove ci siamo presi una cosa io e una cosa Pippo. Vai, Pippo, a vedere la tua cosina. Le ciabatte. Le ciabattine. Eccole qua, ragazzi. Bellissime, blu e grigia. Sono della Defonseca, quindi buone. E poi sono anche rigide. Quindi è difficile che si consumino, ecco. E Defonseca Kids, numero 31-32. E il prezzo di 10,90€. Molto, molto carina, vero Pippo? Sì, caracchio, sono legge in giapponese. Poi io... Tadà! Queste bellissime pari di scarpe perché mi servivano proprio degli bei stivaletti. Costavano 39,90€ con lo sconto del 30%. Sono di questa marca. Prendimi. Però sono molto, molto carine. Allora, numero... Prendimi! Numero 38. Tara, tara! Eccole qua, ragazzi. Allora, hanno un po' di carro armato sotto, però poco, perché a me non piace proprio quello alto. Non mi piace tantissimo. Con questo tacchetto qui. Poi, sono appunto tutte nere con queste cinghiette qua, molto carine. E poi, dall'altra parte, sono semplici con la cernierina. Così. A me è piaciuto tantissimo. Veste sono comodissime, veramente. Sono molto comode, non si sentono al piede. E sono bellissime. Guardate che carine. Molto belle. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono, ecco. Ok, ragazzi. I nostri acquisti sono finiti, vero Pippo? Vero? Sì? Noi ci siamo divertiti tantissimo. Veramente, è stata una giornata bellissima. Sono andata a comprare tante, tante cosine. E ci è piaciuto veramente tantissimo. Anche Pippo si è divertito molto. Mi raccomando, fateci sapere nei commenti se vi piace questa nuova sezione shopping. Se volete altri video di questa sezione. Se si tendete anche voi a fare degli acquisti con i saldi, molto, molto carini. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete nuovi, si vede al nostro YouTube. Vi faremo tanti attivino con i vostri video, con i vostri amici e lasciare commenti. È sta, è sta bomba. Bravissima Pippo, adesso siete i bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. Adesso vedrete la parte dei nostri vestiti indossati. Ok, quindi fateci sapere se vi piace anche questa parte che metteremo al fondo dei video appunto di shopping. Dove indossiamo le cosine che abbiamo comprato. Pippo è molto tranquillo, molto felice. E quindi, saluti da Tina e... Pippo e io c'è il consiglio. Ciao! 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 No No